Benicio, speccato, siete molto rammaricati da questa sconfitta arrivata proprio nel finale. Sì, abbiamo lavorato un mese per arrivare qua e dare il nostro meglio, però oggi non lo so che è successo, abbiamo sbagliato, abbiamo peccato nei gol e abbiamo perso. Il primo tempo così così, però poi nel finale eravate riusciti a recuperare lo svantaggio sul 3-3, insomma una disattenzione difensiva che è costata cara. Sì, abbiamo lavorato troppo sulla difesa e oggi non abbiamo riuscito a fare quello che dovevamo fare. Marco, il mister diceva senza fallo, perché i cinque falli alla fine hanno condizionato un po'. Sì, abbiamo peccato di fare cinque falli e così non potevamo più arrivare forti, dovevamo lasciare loro mettere il gioco loro. Si dice che il Benevento abbia come obiettivo la salvezza, però ci sono alcuni elementi insomma molto forti nella squadra campana. Sì, sì, ci sono esperienti, hanno giocato già da anni che giocano il campionato e sappiamo che era difficile. Avete cambiato un po' di elementi nella Rosa, quindi è anche logico che in queste prime partite bisogna assestare un po' il gruppo, no? Sì, sì, ancora non siamo riusciti a fare quello che doveva fare tutto per la squadra, stare bene, perché abbiamo messo qualche giocatore in più. Non è una squadra ancora pronta, ancora abbiamo cose da dimostrare. Un'ultima cosa, cosa vi ha detto il mister nell'intervallo? Ha detto di rimanere sul gioco per pensare loro che dovevamo arrivare sicuramente al pareggio e poi arrivare alla vittoria e non abbiamo riuscito a fare questo.